La Soncinese resta bestianera per il Castiglione, che non va oltre il pari nella trasferta cremonese e interrompe la striscia di tre vittorie consecutive. Nel corso del match i Mastini di Esposito si fanno preferire agli avversari, tra le compagini più in forma del campionato, ma i Rosso-Blu possono recriminare per un gol annullato nei minuti di recupero. Prima occasione al venticinquesimo, quando Pezzini non sfrutta l'assist di Mangili. Al ventinovesimo Castiglione è in vantaggio, dopo un batti e ribatti in area, Guagnetti è lesto a infilarsi tra difensore e portiere, siglando l'1-0. Al trentaduesimo è Mangili a mancare l'appuntamento con la deviazione nello specchio. La Soncinese, dal canto suo, prova ad impensierire il Casti con i piazzati, ma senza molto successo. Prima del riposo una conclusione di Mangili termina fuori misura, poi Manbrin si immola sul tiro ravvicinato di Maffi. Nel secondo tempo la Soncinese ci prova subito, con uno stacco di Davini che termina fuori. Risponde il Castiglione, cross di Lauricella, ma Ferrari non riesce a girare a rete. Al cinquantunesimo il colpo di testa di Guagnetti da corner termina alto. I Rosso-Blu insistono, al sessantacinquesimo Conti a rimorchio prova a piazzarla, però non trova lo specchio. Cinque minuti dopo è Campagnari, a sparare incredibilmente alto da due passi. Al settantaduesimo la Beffa, su una delle poche azioni manovrate della Soncinese, Pagano pesca Volpi che, forse anche con una lieve deviazione di Ricciardi, trova l'uno a uno. I Mastini allora si gettano in avanti, lo stacco di Ferrari è facile preda del portiere, sull'altro fronte Pagano non impensierisce segna. All'ottantacinquesimo Ferrari fa tutto bene, ma non riesce a dare il giro giusto alla palla. Arriviamo al novantaduesimo con l'episodio contestato. Il portiere Leoni si addormenta e Guagnetti, in un'azione simile a quella del primo gol, mette in rete. L'arbitro però ravvisa un fallo da parte del capitano Castiglionese, scatenando le proteste rosso-blu. Nella circostanza viene ammonito la seconda volta ed espulso Ferrari, che dunque non ci sarà nella partita di mercoledì col Carpenedolo. Finisce 1-1, ma il Castiglione recrimina per i due punti sfumati. Grazie mille. Grazie a tutti.